Musica Quest'anno presentiamo due famiglie nuove di prodotti in questa edizione del McFruit e entrambe sono contraddistinte dall'alto valore aggiunto. La famiglia dei pesti di verdure fresche dalla ricetta. Tant'è vero che abbiamo messo in campo la professionalità di una chef Carla Casale per studiare la ricetta. Si tratta di pestati di verdure fresche ideali per condire crostini, pasta e per base pizza. L'altra famiglia di prodotti sono le verdure pronte all'uso per un consumo sia a casa che fuori casa con l'aggiunta importante di germogli di verdure perché i germogli di verdure ne danno colore, sapore e soprattutto un germoglio di verdura fresca ha 50 volte superiore le proprietà nutritive rispetto a una verdura adulta. Musica Per Sip è fondamentale la sicurezza e soprattutto l'aspetto salutistico, quindi un sano stile di vita si deve coniugare con una sana alimentazione e soprattutto quindi l'informazione, una corretta informazione alimentare diventa fondamentale. Ecco perché nasce da qui la collaborazione con medici e con nutrizionisti per educare l'alimentazione e lo studio delle nostre etichette da un punto di vista nutrizionale, ma anche coordinare dei mix di prodotti che combinati insieme ne fanno di questi prodotti, prodotti interessanti ad alto contenuto nutrizionale. Raccontare con estrema verità, genuinità e autenticità un modo di fare, che è quello romagnolo ed essendo tutti romagnoli siamo orgogliosi di questo spirito, di questa terra, che non è un semplice luogo o una cartina geografica, ma è molto di più un modo di fare, di vedere le cose, di approcciarci un po' alla vita, al lavoro e allo stile che abbiamo tutti i giorni. Romagna Style. Grazie a tutti. Grazie a tutti.